Iniziato il 7 febbraio a Teramo, il progetto Abruzzo contro il bullismo è giunto a metà dei 14 appuntamenti in cartellone. Venerdì prossimo 24 febbraio è in programma infatti il settimo incontro con le scuole all'auditorium del Parco all'Aquila. Il bullismo è un fenomeno complesso che esiste da sempre ma che si è evoluto negli ultimi tempi grazie allo sviluppo dei moderni smartphone dando vita al cosiddetto cyberbullismo. Le nuove generazioni, ma non solo quelle vivono in una società fortemente dipendente dalle tecnologie e dalla rete al punto che spesso non si riesce a distinguere il reale dal virtuale. Ne abbiamo parlato con un esperto, l'ingegnere informatico Gian Maria De Paulis intervenuto venerdì scorso all'appuntamento che si è svolto al Teatro Circus di Pescara. Che cosa si sente dire? Qual è il consiglio principale? Sono bravissimi, grandi tecnologi, tecnofili, tutto quello che ci vogliamo inventare, generazioni digitali, va bene tutto, però hanno una capacità tecnica all'avanguardia, ma dobbiamo far crescere loro il senso critico. Il senso critico lo si fa usando la testa e quindi ragionando su quello che condividono, come, quando, cose e soprattutto se quella condivisione o pubblicazione, diamo anche il nome a volte corretto, a certe azioni, può regare dei problemi direttamente a loro o a chi intorno a loro. Quindi usare la testa, essere non tanto veloci nel pubblicare, quando usare quei due secondi in più e fare la differenza nel costruire un messaggio corretto da divulgare. E magari evitare anche i like? Beh certo, un like è comunque una condivisione. Se mettiamo un like è un po' come la vecchia pacca sulla spalla. Se parlo da qualcuno che ha fatto una cosa brutta e gli do una pacca sulla spalla, è come mettere un like su un posto. Cioè sto dividendo quell'azione. Se quell'azione è negativa, in qualche maniera stiamo dando un messaggio fortemente negativo. Quindi assolutamente attenzione anche a dove mettiamo i like, a come commentiamo e anche alle parole che utilizziamo a volte. Se lei dovesse scattare la classica fotografia, chi è il bullo oggi? Il bullo in realtà, credo che sia oggi come oggi, la persona in difficoltà. Vorrei dire quasi in realtà è marginato, perché probabilmente è la persona che non riesce a trovare dialogo e condivisione con gli altri. Quindi per necessità di cose se la deve costruire facendo azioni un pochino, le voglio definire goffe, non cattive. Goffe perché non si rende conto. Però attenzione perché è facile da bullo a sfociare a volte in delinquenza. Quindi la violenza che in qualche modo prevale sul pensiero e sulla parola? Sì, la violenza oppure una... Magari anche inconsapevole. Ecco, io ho una mancanza all'educazione, ad un'intelligenza emotiva, perché poi l'emozione e quindi l'emotività crea, genera delle reazioni. Se non sappiamo a volte gestire tali reazioni, si può sfociare in atteggiamenti fuori dalle righe, purtroppo.